Allora ragazzi sono arrivate delle notizie importanti negli ultimi minuti, nelle ultime ore, una è quella del ricorso del collegio di garanzia del CONI che alla fine anticipa ulteriormente la data dell'udienza, in mattinata si era parlato del giorno 4 maggio che in teoria doveva essere il giorno in cui i playoff avrebbero dovuto prendere il via, in realtà è una notizia che viene lanciata da tutto mercato web praticamente da circa qualche minuto che addirittura l'udienza del CONI viene anticipata ulteriormente di un giorno quindi il 3 maggio, un'udienza che sarà diciamo così in modalità appunto telematica e quindi si saprà giorno 3 maggio la risposta da parte del collegio di garanzia del CONI per il ricorso che aveva presentato il Taranto per i quattro punti di penalizzazione, che comunque hanno cambiato diciamo così la classifica e che hanno portato allo slittamento dei playoff e questa è la seconda notizia ovviamente importante perché ovviamente in quanto il Catania è coinvolta diciamo in questa batteria dei playoff anche se inizierà dalla prima fase nazionale diciamo così dei playoff era una notizia che ci interessava diciamo così in maniera diretta. In questo video volevo parlare e spiegare e fare un po' di precisazioni per quanto riguarda il regolamento dei playoff sono andato a vedere sia nel sito della Lega Pro ma in generale mi sono un po' documentato per cercare di capire vi spiegherò in questo video come si svolgeranno questi playoff. Partiamo innanzitutto dall'altro comunicato che è uscito da pochissimo da pochissimi minuti diciamo così che sono le nuove date che vengono appunto stabilite ricordiamoci che all'inizio il playoff doveva iniziare il primo turno della fase a girone dei playoff doveva iniziare appunto sabato 4 maggio ma ovviamente queste date sono dovute slittare per ricorso come dicevamo prima del collegio di garanzia del CONI e quindi questo è il comunicato che emette proprio sul proprio sito la Lega Pro dando come il martedì 7 maggio il primo giorno diciamo così dove inizierà appunto il primo turno a gara unica della fase a girone dei playoff e quindi alla fine si è slittato solo di qualche giorno. Siamo passati dal 4 maggio al 7 maggio in realtà all'inizio si era pensato ad un slittamento un po' più lungo di almeno diciamo così una settimana in realtà inizieremo il martedì 7 maggio quindi ci sarà anche per le squadre organizzatrici poco tempo per organizzare comunque anche tutto quello che è il discorso legato alla vendita dei tagliandi anche per i tifosi che dovranno comprare i biglietti e dover fare ovviamente le trasferte. Ma c'è la voglia da parte della Lega Pro di iniziare il prima possibile di finire ragazzi il prima possibile questo diciamo così questo playoff. Le date invece per quanto riguarda i playoff non sono cambiate e ovviamente la classifica dei playoff non ha avuto un slittamento perché il ricorso era stato presentato ovviamente dal Taranto che è inserito nel tabellone dei playoff. Quindi andiamo a spiegare anche il perché di questo slittamento se andiamo a vedere la classifica ci rendiamo conto di come la Casertana sia arrivata a quarta in classifica con 65 punti appaiata a 65 punti proprio insieme al Taranto in virtù dei 4 punti di penalizzazione. Ecco perché il Taranto ha presentato questo ricorso perché qualora venissero restituiti o tutti e 4 diciamo così i punti e cambierebbero ulteriormente la classifica o almeno un punto solo o due punti il Taranto guadagnerebbe una posizione propria ai danni della Casertana che in questo momento è quarta in classifica. E c'è una differenza importante tra finire quarta o quinta in classifica perché chi arriva quinta in classifica come in questo momento il Taranto in virtù dei 4 punti di penalizzazione diciamo così parte dal primo turno della fase da girone dei playoff mentre in questo caso la Casertana che è quarta in classifica partirebbe dal secondo turno della fase da girone dei playoff. Ecco perché ovviamente c'è stato questo slittamento perché cambiando l'eventuale posizione diciamo così del Taranto andrebbero a cambiare tutti quelli che sono poi gli accoppiamenti che ora andremo a spiegare. Innanzitutto facciamo chiarezza per quanto riguarda la fase a girone e la fase diciamo così nazionale. La prima fase che viene chiamata fase a girone è una doppia fase per così dire dove all'inizio entreranno in gioco tutte le squadre dei tre gironi che si sono classificate dal quinto fino al decimo posto. Questa è la prima parte della fase a girone dei playoff e poi alla seconda parte della fase a girone dei playoff entreranno anche le quarte in campionato dei tre gironi come in questo caso diciamo così la Casertana. E poi la fase nazionale dove entrerà in gioco il Catania nel primo turno che anche la fase nazionale prevede diciamo così due turni. Prima fase nazionale e seconda fase nazionale ma torniamo un passo indietro alla fase a girone come diciamo prima prevede due fasi. Andiamo a leggere il diciamo così il regolamento. Ovviamente le date questo è un articolo che ovviamente è stato fatto qualche giorno fa dove viene spiegato bene tutto il regolamento ma c'è da cambiare le date. Infatti questa era la vecchia data che era prevista quella del 4 maggio come abbiamo visto con il comunicato della Lega Pro siamo passati al martedì 7 di diciamo così maggio. Allora lo svolgimento dei playoff prevede la suddivisione in tre fasi. La prima è quella a girone che dicevamo la seconda è quella nazionale a completare poi il quadro diciamo così le final four quindi le semifinali e poi le finali. Passiamo alla fase a girone generalmente i playoff ci dicono due o circa un mese e la prima fase appunto si si affrontano le squadre dello stesso girone poi quando si andrà diciamo così avanti alle fasi nazionali ci saranno gli incroci tra le varie squadre dei vari diciamo così girone. Ad accedere saranno tutte le 21 squadre quindi dalla quarta fino alla decima posizione dei tre gironi quindi nella prima fase a girone entreranno sette squadre del girone A sette squadre del girone B e sette squadre del girone diciamo C. Parliamo di fase a girone in generale come c'è prima la fase a girone prevede due diciamo così turni se passiamo però al primo turno della fase a girone in questo caso entrano in gioco le diciotto squadre quindi questo è il primo step quello che si giocherà il martedì sette che prima era previsto invece il sabato diciamo 4 maggio. Quindi entrano in gioco diciotto squadre classificate dal quinto al decimo posto diciamo così di ciascun girone quindi al primo turno entrano dalle quinte in poi dal quinto fino al decimo al decimo posto andiamo a vedere in questo caso il girone C al quinto posto ovviamente c'è il Taranto quindi con questa classifica con i quattro punti di penalizzazione il Taranto è chiamato a scendere in campo al primo turno diciamo così della fase a girone dei playoff. Ecco perché sta presentando questo ricorso perché il Taranto vorrebbe guagnare almeno una posizione da nella casertana per saltarsi il primo turno e accedere direttamente al secondo ragazzi playoff è un campionato a parte anche nei primi turni saltano diciamo così sorprese poi comunque evitare un turno che eviterebbe la stanchezza di giocare comunque una partita estremamente diciamo così combattuta il rischio di avere comunque infortunio infortunio il rischio comunque anche di prendere ammunizioni pesante perché lo ricordiamo nei playoff non è come in campionato che alla quinta ammunizione scatta la squalifica se non ricordo male nei playoff alla seconda ammunizione di un tuo giocatore scatta i diciamo così la squalifica quindi partire dai primi turni è penalizzante anche sotto questo punto di vista perché comunque comincia a prendere ammunizioni in partite ragazzi che sono molto molto tirate perché soprattutto quando si arriva all'ultima mezz'ora le squadre che stanno perdendo ormai non hanno nulla diciamo così da perdere gli animi si accendono anche le stesse squadre che stanno vincendo giocano col cronometro e prendono ammunizione per perdite di eh di tempo quindi poi queste ammunizioni si vanno sommando e quando scatta poi il secondo giallo che non è difficile prendere due gialli magari in tre partite per un centrocampista o per un difensore diciamo così centrale ecco perché evitarsi diciamo almeno un turno per il Taranto sarebbe un qualcosa di eh diciamo così importante ehm prendiamo per buona che al Taranto non venga ritornato nessun punto quindi alla prima fase eh diciamo così ehm a girone dei playoff entreranno le squadre del girone A del girone B del girone C che sono classificate dal quinto fino al decimo posto però con questa formula ovviamente perché nei playoff si cerca sempre di dare ovviamente un vantaggio a chi nella regular season sia arrivata meglio diciamo così in classifica quindi le quinte in questo caso prendiamo per buono il Taranto eh andrebbe a affrontare il Latina il Picerno che è sesta andrebbe a affrontare la nona in classifica che è il Crotone e l'audace Cirignola la settima andrebbe a affrontare l'ottava che è il Giuliano ovviamente dando due vantaggi innanzitutto alla squadra meglio classificata quindi prendiamo lo spareggio per esempio Taranto eh Latina si darebbe la possibilità al Taranto di giocare in casa ricordiamo che è una fase questa della fase a girone nel primo turno dove si gioca a partita diciamo si secca non è formula andata e ritorno è partita secca quindi in questo caso si giocherebbe in casa della squadra diciamo così meglio classificata in nella regular season quindi giocherebbe in casa quindi Taranto giocherebbe in casa con il Latina con il secondo vantaggio che anche il più importante che in caso di parità quindi con il pareggio passerebbe sempre la squadra meglio posizionata alla regular season quindi nel Taranto per esempio Latina che si dovrebbe disputare diciamo così al giorno al giorno d'oggi non solo il Taranto ha la fortuna di giocare in casa ma avrebbe anche due risultati su tre quindi il Latina di turno l'unica opzione di diciamo così passare avanti in questo turno è quello di andare a sbancare fuori casa diciamo così Taranto o anche nella sfida Picerno contro Crotone quindi sesta contro Nona il Crotone gioca fuori casa e ha solo la chance diciamo così di vincere la sua partita in trasferta perché anche col pareggio sarebbe fuori quindi doppiamente tra virgolette penalizzata perché non solo sei fuori col pareggio ma proprio perché questa partita secca la giochi anche in in trasferta quindi molto importante cercare di ottenere un piazzamento importante in campionato nella grilla di playoff lo vediamo proprio già dalle prime fasi di questi di questi spareggi se andiamo a rileggere infatti dice le squadre vincente avranno accesso al secondo turno e in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari avrà accesso al secondo turno del girone della squadra meglio classificata al termine della regular season che è quello che vi ho appena diciamo così spiegato il la fase girone del primo turno infatti qua c'è scritto previsto 4 maggio ma come abbiamo detto esilitato al 7 di maggio e dopo arriviamo al secondo turno ricordiamo che ovviamente sono sei squadre involucrate quindi la quinta la sesta la settima l'ottava la nona e la decima sei squadre in tre partite cosa vuol dire vuol dire che tre squadre dopo questa prima fase ovviamente finiranno la stagione e tre squadre invece andranno diciamo così avanti ovviamente tre squadre è un numero dispari non potresti giocare nel secondo turno ecco perché dal secondo turno della fase girone entrano in gioco le quarte in classifica in questo momento entrerebbe nel secondo turno della fase girone entrerebbe la casertana che si diciamo così risparmia invece il primo il primo turno infatti non andiamo a leggere nel secondo turno dei playoff alle tre squadre vincitrice degli incontri del primo turno quello che abbiamo appena detto si aggiunge la quarta classificata diciamo così la squadra classificata al quarto posto di ciascun girone della regular season e quattro partecipanti sono ordinate nel rispetto del piazzamento in classifica ottenuto al termine della regular season cosa vuol dire facciamo delle degli esempi facciamo finta che il taranto batte diciamo così batte o passa diciamo così contro il latina perché magari vince o perché pareggia mettiamo il caso invece che il crotone sbanca diciamo così picerno e vince quindi passa al secondo turno facciamo finta che non lo so cerignola e giuliano magari passa il cerignola che giocava in casa quindi facciamo finta che passano crotone cerignola diciamo così e e taranto sono tre squadre quindi a questo secondo turno si aggiunge una quarta squadra che la quarta classificata alla casertana che ovviamente dovrà avere un vantaggio per essere meglio classificata di diciamo così rispetto a tutte queste squadre che approcciano al secondo turno quindi ovviamente si andrà a guardare per per fare gli accoppiamenti del secondo turno della fase girone proprio la stessa classifica quindi si prende praticamente la meglio piazzata infatti qua dice gli accoppiamenti saranno i seguenti la migliore classificata affronta in casa e in gara unica la peggiore classifica ovviamente la migliore classifica chi è tra tutte queste squadre la quarta in classifica che accede proprio a questo turno quindi la migliore classificata affronta in gara unica la peggiore classificata quindi stiamo facendo esempi sempre nel nostro girone faccio finta che nel secondo turno ovviamente entra in gioco la quarta che è la casertana di tutte le altre che hanno giocato nel primo turno chi è la peggiore in classifica facciamo finta il crotone che ha battuto facciamo finta sempre il picerno perché magari latina è riuscito quindi è la nona in classifica allora la nona in classifica si va a copiare con la quarta e poi le altre due che rimangono che avevamo detto per esempio taranto e cerignola in questo caso chi ha finito meglio il campionato diciamo così il taranto e allora sarebbe taranto cerignola e sarebbe casertana crotone perché anche in questo secondo turno della fase girone si premia la squadra che è meglio piazzata in classifica quindi gara secca anche secondo turno della fase girone partita in casa della squadra meglio classificata col doppio vantaggio che anche qui in caso di parità passa avanti la squadra che in campionato aveva finito diciamo così meglio in meglio piazzata diciamo così in in classifica vedete di quanto è importante cercare di ottenere un piazzamento importante nella griglia non è la stessa cosa partecipare come ottavi come noni come decimi che partecipare ai playoff come terzi o magari o come come secondi o addirittura come o come quarti quindi la migliore classificata affronta gara unica la peggiore classificata e le altre due si affrontano in gara unica sul campo della migliore classificata le squadre vincenti avranno accesso alla fase nazionale quindi da queste quattro squadre sono ovviamente due partite vanno avanti solo due che accedono alla fase nazionale del primo turno perché anche la fase nazionale ha due turni il primo e il secondo nella fase nazionale primo turno è diciamo il momento in cui il catania scenderà diciamo così in campo per i vantaggi che si è andato a prendere grazie alla vittoria della coppia della coppa italia infatti le squadre vincenti avranno accesso alla fase nazionale dei playoff caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentare per accesso alla fase nazionale dei playoff la squadra meglio classificata quello che abbiamo appena detto diciamo così primo quindi primo e secondo turno della fase girone sono a formula a gara secca in casa sempre della squadra meglio classificata che ha anche il vantaggio di in caso di parità di avere diciamo due risultati su tre sia se vince sia se pareggia può andare avanti nella diciamo così lotteria dei playoff quindi i primi due turni fase girone sono molto semplici ovviamente questo è slittato il secondo turno non è più il 7 di maggio ma è praticamente il secondo turno è slittato all'11 sono tutti i turni slittati di 3-4 giorni ovviamente per aspettare il collegio di garanzia del coni che ci dirà se verranno restituiti dei punti come dicevamo prima al Taranto o no ricordiamo che il Taranto è per differenza reti è quinta in classifica rispetto alla Casertana anche se in questo momento entrambi hanno 65 punti perché entrambe le sfide sia quella di andata e quella di ritorno le ha vinte sempre la Casertana quindi Casertana Taranto ha finito 1-0 e Taranto Casertana ha finito 0-1 quindi la Casertana ha vinto tutte e due le sfide in campionato sempre con il risultato di 1-0 contro il Taranto quindi avendo entrambe in virtù dei 4 punti di penalizzazione 65 punti in classifica la Casertana è quarta e il Taranto è quinto quindi è una differenza importante che costringe il Taranto se non gli avessero tornati i punti a dover entrare in gioco dal primo turno serie C fase nazionale alla fase nazionale quando parla di fase nazionale parla dei due turni si riferisce sia al primo che al secondo turno parteciperanno 13 squadre 10 scenderanno quindi 10 di queste 13 scenderanno in campo dal primo turno mentre le altre tre fortunate che chi sono le altre tre fortunate sono le seconde in classifica dei rispettivi tre girone possono permettersi il lusso di stare a guardare il primo turno della fase nazionale quindi rispermiare ulteriori energie evitare infortuni evitare cartellini gialli e entrare poi al secondo turno della fase nazionale mentre noi entreremo diciamo purtroppo al primo turno della fase nazionale quindi fase nazionale primo turno al primo turno entreranno le 10 squadre quelle che dicevamo ma chi sono queste 10 squadre sono le 6 squadre che risultano vincitrice degli incontri della fase a girone fase a girone quelle che dicevamo prima che erano il primo secondo turno e ovviamente alla fine di questi due turni tra tutte e tre i gironi passeranno 6 squadre 2 del girone A 2 del girone B e 2 del girone C e approderanno la prima fase nazionale dei playoff quindi già sono 6 squadre che arrivano dalla fase a girone A queste 6 squadre si aggiungono le 3 terze in classifica nel nostro caso se prendiamo come esempio il girone C entra in gioco il venemento poi entra in gioco la terza del girone B e la terza del girone A quindi alle 6 squadre che abbiamo menzionato prima si aggiungono le 3 terze in classifica dei 3 gironi e poi si aggiunge la più bella ovviamente fatemelo dire che la squadra vincitrice della Coppa Italia di Serie C ovviamente in questo caso noi quindi 6 più 3 più 1 arriviamo alle 10 squadre che ci davamo prima che giocheranno la prima fase nazionale gli incontri saranno determinati dal sorteggio questa è una cosa importante quindi perché si era detto invece che in base alla classifica no ragazzi in base al sorteggio verrà fatto un sorteggio quindi in base a chi andrà avanti nei primi turni di tutte e tre il girone questo non lo sappiamo al momento dove ci saranno 5 teste di serie perché se sono 10 squadre 5 partite no? dicendo che sono 5 partite in ognuno di queste 5 partite ci deve essere una testa di serie e una non testa di serie ma chi sono allora queste 5 teste di serie? sono le 3 terze classificate dei 3 gironi quindi già sono teste di serie la squadra vincitrice della Coppa Italia per fortuna per noi quindi la quarta classificata e poi per stabilire la quinta testa di serie cosa andranno a prendere? tra le 6 squadre di tutte e tre i gironi vanno a vedere chi era meglio classificata durante la regular season e si aggiunge alle 3 terze in classifica, si aggiunge al Catania in quanto vincitrice della Coppa Italia e si aggiunge a queste ulteriori squadre quindi avremo 5 teste di serie e 5 non test di serie le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al secondo turno della fase nazionale in caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno avranno accesso al secondo turno della fase nazionale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti delle due gare cosa vuol dire? allora ricapitoliamo noi entriamo in questa fase, prima fase nazionale saremo teste di serie quindi in quanto teste di serie abbiamo la fortuna di giocare numero 1 la sfida di ritorno in casa perché la fase nazionale è il momento in cui entra in vigore la formula andata e ritorno mentre i turni precedenti erano gare secche essendo che formula andata e ritorno già alla prima fase nazionale dei playoff il Catania ha la fortuna in quanto teste di serie di giocare il ritorno in casa e abbiamo visto durante il cammino del campionato Coppa Italia che giocare il ritorno una partita decisiva in casa è un bel vantaggio quindi avremo la fortuna di giocare il ritorno in casa e che soprattutto in caso di parità di punteggio cosa vuol dire in caso di parità diciamo così di punteggio in caso di magari una partita vince una squadra la squadra che all'andata giocava in casa il ritorno vince la squadra che giocava diciamo così in casa quindi ognuno vince la rispettiva partita diciamo così in casa verranno guardate la differenza in reti cosa vuol dire? che se il Catania verde è l'andata 1-0 non lo so sto prendendo una squadra a caso Ponte Dera non so mai cosa si è classificato ai playoff perdo 1-0 col Ponte Dera ma poi il ritorno diciamo così vince 2-0 dice ok hanno vinto una partita a testa ma si guarda la differenza reti ho capito 1 ha vinto una gara però per 1-0 quindi con 1 sulla differenza reti il ritorno magari il Catania vince 2-0 in casa quindi hanno vinto una partita a testa ma si guarda la differenza reti il Catania in ritorno avrebbe vinto con due gol di scarto quindi passerebbe per miglior differenza reti il Catania ma qualora ci fosse un'ulteriore partita l'esempio che all'andata facciamo un esempio Ponte Dera-Catania finisce 1-0 il ritorno Catania-Ponte Dera finisce 1-0 sarebbe una doppia parità entrambi hanno vinto una partita a testa entrambi con la stessa differenza reti è praticamente di più 1 e allora in quel caso alla fase alla seconda fase guardate qui al secondo turno della fase nazionale c'è la testa di serie va alla testa di serie quindi noi in questa fase nazionale abbiamo due vantaggi uno di giocare la partita decisiva diciamo di ritorno in casa e il secondo vantaggio che se facciamo due risultati uguali o due pareggi 1-1 e 1-1 2-2 e 2-2 0-0 e 0-0 o perdiamo 2-1 e al ritorno vinciamo 2-1 o perdiamo 2-0 all'andata e vinciamo noi in casa al ritorno 2-0 con lo stesso identico risultato essendo testa di serie il Catania passerebbe al secondo turno quindi abbiamo un gran bel ovviamente vantaggio le date erano previste inizialmente 11 e 14 maggio ma come abbiamo visto sono slittate invece al 14 e al 18 c'è sempre questo slittamento andiamo al secondo turno della fase nazionale che speriamo che il Catania riesca ad acciuffare a quel punto già la situazione per noi si complica perché dice al secondo turno della fase nazionale di Lega Pro partecipano le 5 squadre risultate vincitrice del primo turno abbiamo detto che erano 10 squadre abbiamo detto che erano 5 partite passeranno ovviamente 5 squadre a queste 5 squadre ovviamente dobbiamo arrivare a un numero pari se no non si può giocare cosa succede entrano in gioco le 3 classificate quindi le 3 classificate entrano solo al secondo turno della fase nazionale nel nostro caso Lavellino quindi che alle 5 squadre della prima fase nazionale si aggiungono le 3 terze classificate dei 3 rispettivi girone per arrivare a un totale di 8 squadre quindi 4 diciamo così partite ma come verranno accoppiate però queste 8 squadre in queste 4 partite con i seguenti diciamo così criteri ci vorranno 4 teste di serie anche qui se sono 4 partite ovviamente chi sono le 4 teste di serie della seconda fase nazionale le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone quindi guardate quanto è importante le seconde classificate entrano solo alla seconda fase nazionale dei playoff entrano come terze di serie quindi vantaggio importantissimo e la quarta teste di serie chi è non si guarda più la coppa italia alla seconda fase nazionale peccato e purtroppo aggiungerei ma per scegliere la quarta teste di serie le squadre che tra le vincitrice del primo turno quindi tra le 5 vincitrice del primo turno risulterà meglio classificata durante la regular season noi siamo la peggiore di tutte perché a questo punto non si guarda più la coppa italia ma si guarda la regular season la regular season ragazzi il canale è arrivata 13 a questo playoff non c'è nessuna squadra che sia ovviamente peggio di noi della tredicesimo posto in classifica perché col tredicesimo posto in classifica nemmeno ci va i playoff noi ci siamo andati eccezionalmente perché tredicesimi in campionato ma perché abbiamo vinto la coppa italia quindi noi matematicamente non possiamo essere test di serie al secondo turno della fase nazionale dei playoff perché indipendentemente dagli accoppiamenti a quale saranno le squadre che arriveranno a questo punto noi saremo la peggiore quindi noi non possiamo essere test di serie quindi le squadre test di serie disputeranno la gara della gara di ritorno in casa quindi sempre lo stesso giochino in questo secondo turno della fase nazionale chi è test di serie come capitava nel turno precedente ha la fortuna di giocare il ritorno in casa perché anche qui c'è la formula andata e ritorno il canale in quanto non potrà essere test di serie dovrà giocare invece l'andata al massimino e ritorno purtroppo in trasferta che è il nostro tallone da chille quindi le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla fase della final four le final four sono semifinale e finale in caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno avrà accesso alla fase della final four le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti è la stessa identica modalità del primo turno della fase nazionale la stessa identica modalità la troviamo nel secondo turno della fase nazionale quindi avvantaggiare le teste di serie che hanno la fortuna di giocare il ritorno in casa e anche qui col doppio pareggio o con la doppia vittoria con la stessa differenza reti passano le teste di serie alle semifinali quindi ragazzi per noi sarà difficile il secondo turno perché giocheremo il ritorno in trasferta e l'andata in casa ma qualora facessimo due pareggi una a uno all'andata in casa nostra e una a uno in trasferta passano le teste di serie noi non siamo le teste di serie e verremo eliminate o se noi vinciamo in casa 2 a 0 e al ritorno perdiamo 2 a 0 stesso risultato stessa differenza reti noi non siamo testi di serie e noi torneremo diciamo così a casa quindi sarà difficile recuperare il secondo il secondo turno fase nazionale playoff secondo turno erano previsti il 18 e il 21 ora sono slittate al al 21 e al 25 playoff nazionale gara di intorno si sono slittate dal martedì 21 e al sabato 20 25 final 4 final 4 alla cosiddetta final 4 parteciperanno le quattro squadre vincenti degli incontri praticamente che abbiamo citato primo del secondo turno della fase nazionale dei playoff le semifinali saranno disputate in gara di andata e ritorno quindi la formula dell'andata e ritorno dalla prima fase nazionale fino alle finali avrà diciamo così avrà la meglio sarà sempre gare andata e ritorno solo i primi due turni della fase girone sono partite ragazzi secche quindi le semifinali saranno disputate in gara di andata e ritorno secondo accoppiamenti determinati al sorteggio integrale quindi anche qui per stabilire le semifinaliste le accoppiamenti delle semifinaliste bisognerà fare un sorteggio le squadre che al termine dell'incontro di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla finale in caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno avranno accesso alla finale le squadre che avranno conseguito la migliore differenza reti nelle due gare in caso di ulteriore parità al termine delle due gare saranno disputate due tempi supplementari di 15 minuti questa è l'unica cosa buona che quando arrivi alle semifinali e per noi sarà ovviamente una cosa importante qualora riuscissimo ad arrivare alle semifinali non c'è più il discorso di avvantaggiare le squadre diciamo così meglio piazzate in campionato quindi ci saranno i sorteggi ci sarà sempre la modalità andata e ritorno ma qualora ci fosse un doppio risultato per esempio pareggio per 1-1 ritorno pareggio per 1-1 o vinco 1-0 all'andata perdo 1-0 ritorno doppio risultato uguale stessa differenza reti se alla seconda fase dei playoff nazionale le non teste di serie vanno a casa e le teste di serie continuano le teste di serie col stesso risultato stessa differenza reti alla semifinale questo giochino non vale più già viene tolto e si va ai supplementari ovviamente si va ai supplementari e se ai supplementari la situazione non cambia si va ai rigori quindi alle semifinali già la situazione diciamo così cambia andiamo a vedere le date le date delle final 4 semifinale andata martedì 28 maggio gara di ritorno domenica 2 diciamo così giugno poi la finale la finale disputata in gara di andata e ritorno anche qui come dicevamo a conclusione delle due gare che avevamo citato prima delle due semifinali in caso di parità dopo le gare di ritorno per determinare le squadre vincente si terrà conto della differenza rete in caso di ulteriore parità saranno disputate due tempi supplementari di 15 minuti e portando a tale situazione sarà eseguito i calci diciamo così di rigore quindi le finali così come la finale andata e ritorno così come le semifinali sempre formato andata diciamo così e ritorno e anche qui qualora ci fosse un doppio risultato uguale con la stessa identica differenza rete tra andata e ritorno prendiamo noi sempre come esempio il pareggiarà l'andata 1 a 1 e pareggiarà il ritorno 1 a 1 o vincere all'andata 1 a 0 e perde il ritorno 1 a 0 stesso risultato stessa differenza rete anche in finale così come la semifinale sono previste i supplementari e dopo i supplementari si va ai calci di i calci di rigore quindi questo è il regolamento e queste sono le date finale l'andata mercoledì 5 giugno gara di ritorno 9 giugno ragazzi qua vediamo come si giocherà veramente ogni 3 ogni 3 giorni noi andiamo a vedere le semifinali giochi la semifinale di ritorno chi arriva la semifinale di ritorno il 2 giugno ragazzi e la finale non è manco una settimana di tempo per prepararla che già il giorno 5 devi giocare la finale di andata il nome di giocare il ritorno quindi si gioca è un tour de force dopo aver giocato una regular season giochi 14-18 maggio 4 giorni di riposo 21-25 4 giorni di riposo 28-2 giugno 5-9 giugno praticamente comincerai a giocare ogni 3-4 giorni e sarà importante per noi ovviamente recuperare tutti i giocatori che abbiamo in rosa ragazzi perché tra gli infortuni che capiteranno perché si arrivi si arriva stanchi si incappa in infortuni ovviamente muscolari perché ragazzi è caldo lo stress ovviamente del fisico quindi qualche giocatore lo perdi per infortuno qualche giocatore lo perdi inevitabilmente per squalifica perché ragazzi al secondo giallo scatta la squalifica ragazzi io mi ricordo che ogni anno che seguo diciamo così i playoff le squadre che partono all'inizio e arrivano alle semifinali che fanno il colpaccio magari di riuscire a superare due o tre turni arrivano alle semifinali spesso che hanno una griglia di diffidati praticamente immensa anche se vedo che poi i gialli nelle semifinali vengono così azzerrate quindi c'è il rischio che col doppio giallo perdi giocatori per squalifica giocatori per infortuno devi ruotare non possono giocare sempre gli stessi ogni tre giorni con 30 gradi perché già saremmo diciamo quasi quasi aggiunto quindi sarà importante recuperare tutta la rosa metterla in condizione ovviamente sto parlando della nostra situazione chissà che se il cadane non arriva avanti non posso recuperare anche comunque per alta che ha un infortunio che comunque può essere recuperato se il cadane va avanti almeno alla seconda fase diciamo così nazionale dei playoff mettere di nuovo in condizioni i vari teio i vari sturaro perché non possiamo permetterci il lusso di rimanere corti e vogliamo provare a fare questo diciamo così miracolo per quanto riguarda i playoff sarà un playoff difficile ma come lo è sempre ogni anno ogni anno ragazzi saltano sorprese ricordiamoci che l'anno scorso il Foggia fece una cavalcata incredibile andando a rimontare tutte le partite sembrava essere diciamo così la cenerentola del playoff in realtà all'improvviso esce il lecco che nessuno si aspettava che addirittura batte poi il Foggia e approda alle finali quindi ogni anno ricordiamoci l'anno del Cosenza i playoff regalano spesso sorprese e tante emozioni ovviamente per quello che abbiamo visto noi in campionato è difficile pensare a un Catania che possa arrivare lontano per quello che abbiamo visto in Coppa Italia ragazzi possiamo sperare considerando come abbiamo detto prima che poi il playoff spesso e volentieri non rispecchia l'andamento del campionato perché ci sono anche per le squadre seconde e terze in classifica hanno un mese di tempo in cui stanno a riposo spesso e volentieri in quel mese di tempo non è facile tenere la concentrazione alta nel gruppo nel gruppo squadra quindi si innescano dei meccanismi anche per le squadre invece che a sorpresa non si aspettavano di andare avanti e hanno superato magari il primo secondo turno cominciano a galvanizzarsi in una maniera che neanche loro si aspettavano ecco perché cambia dal punto di vista fisico e mentale il playoff è molto molto diciamo così particolare fatemi sapere ragazzi nei commenti cosa pensate di questo di questo formato diciamo così dei playoff cosa pensate se secondo voi il catania possa avere qualche speranza di arrivare fino in finale iscrivetevi al canale ragazzi e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao